Buongiorno 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 Certo, eh, anche il tuo sottotitico è la terza Sì Penso che quello ha segnato in casa Dove l'è la mia faccia? No, no, si, tranquillo Pum, no, quello ha segnato Anche per aver guardato questo è ancora una macchina 26 giugno e via la faccia Ok? No, mi prende la testa dentro No, no, no Stato, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 No